Nuovo appuntamento con Classica Ariano. Nel Museo Civico l'esibizione del Magnasco Trio. Andrea Cardinale al violino, Gianluca Campi fisarmonica, Alessandro Magnasco pianoforte. Cardinale è uno dei pochi violinisti al mondo ad eseguire consecutivamente i 24 capricci di Paganini in un unico concerto. Gianluca Campi è considerato uno dei migliori fisarmonicisti italiani. Alessandro Magnasco è un pianista di fama internazionale. Tango, musiche da film e pubblico delle grandi occasioni al Museo Civico di Ariano eseguiti dal trio Brani di Morricone, Piazzolla e Sting. Piazzolla e Sting. Piazzolla e Sting. Piazzolla e Sting. Piazzolla e Sting.